Consigliere, qual è il punto politico e quali le soluzioni? Il punto politico è essenzialmente quello della sicurezza dei cittadini, che viene messa a repentaglio da questa gestione molto approssimata del trasporto pubblico locale che è stato dimandato a un'azienda privata. Ma io mi voglio riallacciare proprio nello specifico a quanto accaduto, domandandomi come mai questi lavoratori siano costretti a cercare altre fonti di reddito facendo lavori che li impegnano durante la notte. Quindi tutto sommato ci può essere alla fonte un problema di reddito. I lavoratori vengono sempre più privati dei loro diritti, riallaccio per esempio anche servizi dati in appalto, per esempio le biblioteche, si cerca di far ricadere sui lavoratori il risparmio che l'amministrazione ottiene nel bando di gara, è ovvio che questi lavoratori devono comunque vivere, mantenere una famiglia e trovare altre risorse. Quindi c'è un problema a monte che è politico, che è quello di rendere la vita dei lavoratori e i loro redditi consoni a una vita dignitosa. Non si può pretendere di risparmiare sempre e solo sui lavoratori perché poi le conseguenze ricadono su tutta la collettività, in questo caso sulla sicurezza dei cittadini.